Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Guelta Leale e oggi qui di nuovo con L'Icy Strange Sì, no way, Max Sì, era solo posizionato a teese Frank Se non crede mi, non possiamo vedere cosa che ha in his RV C'è quello che sta provando? Frank ha Rachel's bracelet C'è altro che ha in there? Motherf***er non ha nulla Per il suo nome Let's check the door Frank gets so wasted He sometimes forgets to lock it I can't believe you hung out with him Not anymore We have to be casual ninjas here Shipples Okay, here's the plan I'll go to the diner and distract Frank By telling him I have this money But he needs to come with me Then you come in and rewind So Frank doesn't see me Then you can tell Frank He needs to check out his RV And then you rewind after you get the key And, uh, and... Chloe, I got this I'll be right back Don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to scrounge up a Scooby snack To distract his mangy mutt Now to find a quick and easy way To snag Frank's keys Okay, allora Prima di questo Vediamo un attimo cosa Poi ci leggiamo qualche altra pagina Siamo a... Arrivati in realtà a pagina 16 Di 49 Quindi ci ha aggiunto altre tre pagine Con l'ultimo video Volevo dare un'occhiata A eventuali foto Che possiamo fare qui Ok Quelle potrebbero essere... Un camper Ah, ok Staro pistando Locked Ok Allora, calcolando che Frank È nel dinner Vediamo cosa vuole Maxine, sono papà Mi dispiace non essermi fatto sentire prima Tua madre è molto fiera di te per aver salvato quella ragazza E lo sono anch'io Speravamo che mandarti alla Blackwell Era la cosa migliore che potevamo fare È un orgoglio leggere di te sul giornale O vedere il video in cui scendi dal tetto con quella ragazza E se volessi tornare a casa per rilassarti E magari frequentare un liceo qui La porta è sempre aperta Baci papà Grazie papà È una follia qui Ma non sono ancora pronta a tornare a casa Più tardi Baci Max Allora Vabbè quella sta rovistando in modo abusivo lì dentro Questo Il pescatore I Deblian già li abbiamo visti Gli uccelli morti ovunque Eh vabbè Un altro uccello morto Tornado Snowfall Eclipses Now dieci animali Holy shit Allora Ehm Vediamo Camion Possiamo vedere qualcosa a camion Lei dice E possiamo attraversare O eventualmente ci investono La possiamo fare da qui la foto E dobbiamo eventualmente Parla da qui Non lo so Però non ce la fa fare Ah ok si Camionista Quindi dobbiamo distrarre il camionista Vediamo che ci dice Ma��anè Pici Interview Over Having a bad day at the office Profession Work is dried up around here And I have bills to pay Time is money to a guy like me That sucks Wish I could drive right out of Arcadia Bay Whole town is crumbling Snow Eclips And a slut Trying to commit suicide Maybe you should leave then What if I could e anche quella schifta rachel what's her face mi chiede una volta se avrò a los angeles vedi Rachel Amber? puoi raccontarmi di lei? no oh di te non ti hai un vero lavoro invece di un lavoro mi piace vedere i blackwell turdi tentativi di guidare il mio 1977 needham 18 wheeler come ho detto intervista ok vediamo magari se adesso sappiamo il modello del camion possiamo fare colpo in qualche modo vai dicendo Rachel Amber possiamo magari avere qualche informazione in più però potrebbe anche incazzarsi proviamo ok me ha fatto colpo alla camicia, ci abbiamo quasi uguale, fratello la mia però è da boscaiolo non da camionista ok, in realtà nel capitolo precedente c'era una da fare al diner alla balenotera qua però non credo sia più possibile forse era quella babba stavolta non mangiamo per favore allora ok, ufficiale tutto esaurito ma sono riuscito a prendere due biglietti per noi ho dovuto affrontare una dozzina di bulli che nerd siamo convintissimi qualcuno può dirci qualcosa a parte il policeman che non credo ci possa essere d'aiuto ok era tanto per dare un'occhiata vediamo che ci dice qualcuno, nessuno però possiamo andare in vano aspetta vediamo un po' che ci dice Frank così a gratis proviamo ah proprio così oh bella non so se ci posso aiutare questa cosa eh infatti proviamo con la birra non credo possa avere risultati migliori comunque magari addosso ha dei rovesciano ah ok così caccia le chiave non Vabbè provare, no? Talve. Ehm, ok. Ok. Allora, parliamo col policeman. Parliamo prima con nada. Che ci sia proprio questa amicizia, però. Ehm, successivo, nel senso ci sono... Rachel e Frank... Kate Marsh, droga in vendita, tuo padre... Vabbè chiediamogli di Rachel e Frank. Con Frank... Quindi... Torniamo un po' indietro. Vediamo. Se ci può... Tornare utile direttamente qui. Sì. No. Ehm, vabbè chiediamogli qualcosa. Questa. Perché se abbiamo tutte le info, magari... Ehm... Kate Marsh, droga... Kate Marsh... Scusi, eh, io presto un po'. Scusi, eh, io presto un po'. Holy shit! What do you want now? Don't worry. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You get your school supplies. Just go over Frank and whisper higher education. You hook your ass up. Ok. Ehm, vabbè, quell'altra senza che gliela richiediamo tanto ormai già la sappiamo. Proviamo ad andare direttamente da... Frank, invece di andare dal policeman. Vediamo che ci dici. ora. Proviamo a chiedere anche del debito con Chloe o...? No. By the way, Frank. diciamo di metà in列are. No. Ok... Sicura? Aspetta, prima proviamo a fare qualcosa con il polizio. Vabbè, chiediamo un po' tutto. Ehm, aspetta, possiamo... Chiediamo anche le altre cose. Chiediamo l'ultima cosa, poi... Chiediamo l'ultima cosa, poi... Sì, ma riavvolgiamo anche di più. Non so se forse anche questo qui ci conviene riavvolgere, vediamo. Ok. Vediamo se ci ridà la... Sto cercando la pistola... Debituncle... Aspetta. Poi torniamo da lui. Intanto andiamo dalla polizia. Ehm, c'è. Grazie, officer Barry. Sono felice di rappresentare la Academy Blackwell. Allora, ci sta... strana. Kate Marsh, successivo, vediamo se ci dà Rachel e Frank. Accordo con i pre-scott. Diciamo prima Rachel e Frank. Nathana ha detto che... Rachele Amber rappresenta Blackwell. Ehm. Con Frank Bowers. Bows ain't no student anymore. Sì. 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 Mark used to bet on dog fights. To his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs. Kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Ok. Vediamo anche... What can I do for you, Mac? Possiamo chiedergli... Guardo con i pre-scott. Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I'd check up on the Prescott family to make sure they're doing alright. Nathan included. Keep this quiet, Max. Ok. Magari questa informazione ci può servire per il tipo? Holy shit. Sì, zitto, zitto. Proviamo. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to knock on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually, he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. Seriously. Now get off my crack whore. Keep your pile shut. Ok. O possiamo tornare indietro e dirgli direttamente del patto di sangue con Rachel. Proviamo. Vediamo. Eh, dobbiamo trovare un bel po' di informazione qua. So. Bye. Ok. Abbiamo più info. Un bel po'. Va bene. Abbiamo usato un bel po' il nostro potere. très哈哈. But that doesn't explain the recent extreme weather pattern. So, we have a. No, but we have to start with the hypothesis that climate change is a partial cause for the unseasonal weather. That doesn't explain everything, of course. Frankly, we don't know yet. Dr. Hedora. Is your team no more after their latest tests? I hope you see more patterns which gives us an atmospheric template. Ci dica, ci dica Ok, vabbè Senta, abbiamo info Allora, Davy sta cercando la pistola Ho anche il patto di sangue, questa droga Foto di Rachel Premo con foto di Rachel Allora, possiamo Non so se rovesciando qualcosa lo distraiamo Perché così ci becca Sì Fermi Stop Stop Torniamo indietro E in teoria dovremmo avere le chiavi In teoria Ci abbiamo le chiavi, sì Però sarei anche curioso di Dire la cosa del police Ah, ok, vabbè sti cazzi Vai Pensavo fossi pronta per il Vortex Club Ma dopo quello che hai fatto a Jefferson Col cazzo Sei una tale emo di merda Da non volere che nessuno Andasse con lui a San Francisco era, se non sbaglio Sei una piscia sotto Non riesci nemmeno a consegnare le tue banali selfie di merda Per un semplice concorso Sempre Max, Max, Max Perfino quella sceneggiata sul tetto Era più un modo per mettersi in mostra Piuttosto che per salvare Kate Farò in modo che nessuno alla Blackwell Si faccia fregare da quell'atteggiamento Povera Max Preparati Aspetta quella Ma che cazzo Non lo so se È perché così ci sentiamo Aspetta No Aspetta Aspetta Ma ne vale veramente la pena Salva sta buzzicona Da tutti sti cazzi casini Non lo so Buzzico E noi ci stiamo a senti male qua Aspetta Eh, ormai stava qua la macchina E mo ci bagna a noi, scusa Ci tornerà utile questa buzzicona Speriamo di sì Perché se no che cazzo stiamo a fare C'è una pizza Salve Sì eh Ma scusa tu Non fai un cazzo Lancia verso la strada Lancia nel parcheggio Verso la strada Sicuramente lo investono Lancia nel parcheggio Magari rimane qua Però questo è cattivo Verso la strada Mamma mia la bazzardaggine Vabbè tanto possiamo tornare indietro Vai cucciolotto Occhia frenata Aie Eh Ma no C'era per provare Sta bene? Cucciolotto? È Lara che fa casino dietro Dice ma che sei bastardo Fiote No secondo me non Sta bene Sta bene È Lara che si lamenta Se sentite dei rumori Di sottofondo Come sta il cane? Sta Lì Ops Ma sono cani cattivi Di sottofondo Di sottofondo Come si ammettere Mi chiedevi Di sottofondo Di sottofondo No 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 Ok Si ho capito Noi cerchiamo gli indizi Allora Diciamo un pochino Per il cagnolozzo Non mi dispiare Perché alla fine È sempre colpa Del padrone Però Non lo so Bottiglia Scanner della polizia Vediamo Cos'altro C'ha imboscato Questo Mazza da baseball L'arghetto Sono scattiti Il cagnolozzo C'è un pochino Il cagnolozzo Scanne L'arghetto Va' il cagnolozzo I'mg Good to know That Frank Have a knife Il cagnolo Di sottofondo Il cagnolo Il cagnolo Il cagnolo Frak L'arghetto Oni Il cagnolo Un pochino Non Configur È giusto che Frank tratta qualcosa qui con rispettura. È giusto la del cane. Ok. Va bene. Detagli. Al momento abbiamo trovato solamente il coltello in realtà. E-commerce per principianti. Eh, abbiamo un sito che mi sembra. È una abbastanza estremamente luce. Sono questi per Frank o si vendono? O per due? È troppo male che non ho il mio decoder di Frank Bauer. Allora, vediamo se possiamo utilizzare eventualmente il coltello per... Vediamo un po'. Sì, ok. Vai. Eh, potevamo anche svitare le viti. Eh, li metto apposta almeno, no? Eh. Ah, ma lasciamo tutto così, proprio. Eh. Allora, torniamo indietro, aspettate, prima apriamo la credenza, poi torniamo indietro e usiamo il coltello. Aspetta. Aspetta. Aspetta, fammi capire. Ehm. È ancora rotto. Ok. E utilizziamolo qua. Aspetta. 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 Franky. Aspetta. 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 Non dare la colpa alla droga. Mi hai fatto davvero paura e ho pensato che non ti saresti mai calmato. Non ti avevo mai visto comportarti in quel modo. Sappi che la prossima volta sarà l'ultima. Sono leone. Non dormo mai indietro. Mi importa di te. Ehm. Di noi. Forse è il momento di cambiare. Baci. Rachel. Aspetta. Che ci stava. Ok. Presumo che. Il coltello ce lo teniamo. Il coltello. Perché non mi dice nulla? Perché non sa che di capito? Perché non sa che siano come reagite. E perché non era molto amare, eh? Non c'era una persona che è tutto a me. Perché non mi, che mi ha mai sentito? Qui si metto tutti i miei livieri? Mi padre si sono morto. Mi papà si sono morto. Tu valor bridgemi me raggiadano di raggiunga. Mi madre si stava sbagliata. Chloé. Chloé è rairovata. Non è stata benvenciata. Nessuno lo prefinito tu. Chloé che non mi perdite? Chi non ne provi toussi? Chloé! Ok Va bene ragazzi Allora a questo punto direi che ci possiamo salutare qui Con questo episodio di Life is Strange Come sempre commentate fatemi sapere la vostra Seguitemi anche sul secondo canale sulla pagina Facebook E se potete condividete anche questi video Dai ci vediamo al prossimo appuntamento Allora un saluto a tutti da Queltaleale